8 minuti 100 minuti 10 minuti 10 minuti 1 minuti 10 minuti guardate che è una marcia alle 610 proviamo a volare ma andrà indietro 7 minuti vai indietro ragazzi vai indietro, ferma tiri i freni eh tiri i freni eh vada la pressione si andiamo avanti vada la pressione si andiamo avanti vada la pressione vada la pressione vado vai 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 e muse vada la pressione non c'è la marcia metti questa parcia dentro 6 minuti vado acuerdo voglio marci stai grinto Ale prendo l'inter ti vado piano piano 5 minuti 5 minuti